Finalmente una vittoria per le Zebrette, ieri contro il Faiano, una vittoria sofferta, meritata, voluta, che dà morale e fiducia ai ragazzi di Santo Sosso. La partita non è delle più semplici da affrontare con la squadra di casa, anche lei in difficoltà di classifica e 10 punti fatti tutti tra le mura amiche. Ma dopo una settimana di intenso lavoro, i ragazzi di Mister Santo Sosso sono determinati e concentrati, viste anche le buone prestazioni con Agropoli e Virtus Avellino. Alla fine della gara, che si conclude 1-0 per i bianconeri, un raggiante mister dichiara Oggi tutti bravi, finalmente una vittoria di cuore, testa e carattere. Adesso non bisogna rilassarsi, il cammino è lungo e a partire da mercoledì c'è un turno di Coppa Italia da superare e non sarà facile.